bella a tutti raga un saluto da mirko e bentornati su gameplay channel e su arma 3 nella mod iron front liberation 1944 allora amici visto che il video su questa mod vi è piaciuto molto il video precedente ho deciso di riproporvelo quindi quest'oggi saremmo nuovamente con the creeper abbiamo ripreso lo stesso server però insomma abbiamo fatto un po di cose nuove e soprattutto ci siamo un po vendicati del massacro che ci hanno fatto diciamo i bot la precedente partita quindi quest'oggi finalmente massacreremo anche noi tra l'altro con l'aiuto di altri player che sono entrati nel server e quindi ci hanno dato una mano anche con veivoli mezzi e quant'altro insomma è stata una cosa bella movimentata per cui tra poco la vedrete mi raccomando però prima di iniziare il gameplay cerchiamo di insomma aiutare questa serie se vi piace questa moda era un fronte quindi se volete che la porta avanti mi raccomando un bel po di pollici in su cerchiamo di arrivare almeno a 50 condividete con i vostri amici sui vostri social e ovviamente commentate commentate tantissimo diteci se appunto questa mod la conoscete diteci a me a the creeper in questo caso se la moda la conoscete se vi piace e tutto quanto insomma dallo scorso gameplay mi avete detto che per tanti insomma la moda è migliore uscita fino adesso per arma 3 ed effettivamente è stata fatta veramente veramente bene tra l'altro in questo gameplay vi farò vedere anche dei veicoli in più che appunto non abbiamo mostrato lo scorso gameplay per cui insomma ci divertiremo davvero parecchio quindi mi raccomando ragazzi non scordatevi i pollici in su a questo punto passiamo subito al gameplay eccoci gioco amici con the creeper che sta atterrando ecco che è atterrato e siamo di nuovo sullo stesso server dell'altra volta appena 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 aspetta che vai io lo troviamo no no meno male è no infatti ok build va bene ok vai preso che siamo arrivati alla base mica con un bel caro armato finì 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 fermati qua fermati qua fermati qua fermati qua ok vai ok io io sono spawnato dentro una casa quindi sono tipo metà integrato dentro la casa perché è nostro è nostro poi stanno mitragliando è nostro l'aereo vai grandi fantastico panzer e si o merda sparano 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 cazzo 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 stanno sparando tantissimo e sta tornando l'aereo sì solo che non riesco a capire da dove mi sparano wow ah eccolo là il panzer cazzo ce l'ho davanti speriamo che lo prenda uh ha tirato le bombe eh ma non l'ha preso però cacchio l'ha mancato di poco di poco l'ha mancato speriamo che faccia un altro giro sì sì sta tornando ma tu dove sei? eh io sono nel mobile spawn solo che mi stanno perché siamo circondato cazzo 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 che ma l'avevo preso in testa come ho fatto a non ucciderlo non si riesco a prenderlo e no mi tira mi tira porca cia boia c'ho il panzer ah no ma il panzer forse mi sa che l'ha preso sai ma quanti sono perché vedo oh merda oh merda merda è molto il panther il panther mi sa di sì a vero il panther è andato io forse uno l'ho ucciso sì uno l'ho ucciso, ok, ho ucciso un nemico grande, là ce n'è un altro vediamo se riesco a prenderlo dove sei ciccio? eccoti là ok, forse un altro l'ho preso sì ho preso anche un altro merda, mi ha ferito cazzo mi ha ferito anche credo un altro è andato un nemico ok, io non ho presi sì, io non ho presi, credo tre se li ho presi tutti, fammi vedere se è morto oh, merda, 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 merda che cazzo, eh è solo che di qua vai, un altro nemico è andato oh, col cecchino ho finalmente... sì, sì, no, col cecchino riesci a prenderli però è che quando ti sparano ti legnano mica male ah, eccoli là che qua ce n'è un casino di nemici eh, anche qua ma forse è uno preso ok, vai, ne ho preso un altro oh, cazzo, cazzo, cazzo dov'è? dov'è? ok, un altro l'ho preso sta tornando l'aereo grande grandissimo uh, grande, che smitragliata fantastico ho creato una smitragliata proprio qua dove ci sono io però mi tirano ma non riesco a capire da dove adesso vado a vedere i miei colpi che sta sparando merda, no, m'hanno preso porca troia mi hanno ucciso? eh, sì, m'hanno preso eh, non seccate un po' eh, dov'è che devo fare il respawn per essere vicino? eh, mobile respawn l'ultimo ah, ok basta che non mi bombardi aereo, eh dove sei? ma ne abbiamo due ah, no, è solo uno oh, qua ho trovato una macchina no, lo so, è il mobile respawn ah, ok, ok ah, perdono sono qua, comunque da che cacchio sei? sono nel campo nel campo davanti alla stara tra l'altra parte della stara ah, eccoti là erano tutti quei in fondo li ho uccisi di fila erano tutti qua nel campo ce n'è altri? no a meno che non lo esponano quindi c'è un'altra jeep qua questa jeep qua si può usare? eh, sì, vabbè, se è nostro ah eh, sento un panza un altro caro armato non so dove merda, è qua ah, ecco, infatti vedi che lo sentivo zitto, zitto, aspetta ma cavolo no, no, no tu hai il lanciarazzi sì, lo lanciarazzi sì vai, usalo adesso, è fermo qua oh, cazzo cosa? merda, mi hanno preso chi è che mi ha preso? eh, non lo so ah, non lo so sono dietro di te eh, vedi che sta ha preso anche bene sì porca caccia miseria ah, erano di fianco ah, di fianco li avevamo comunque è passato l'aereo eh, mi sa che se ci è andata bene forse l'ha presa Arsenal ok no, no, no perché sono andato in Charlie beh, però almeno in questa un bel po' di nemici gli abbiamo fatti secchi eh ma sì fra tutte e due, dai siamo un po' vendicati esatto ebbè, effettivamente però l'unica mi sa che usare il cecchino eh perché per come sono i nemici cazzo, come ti vedono ti shottano cioè qua quanto meno riesci a prenderli da lontano ma il cararmato l'ha tirato giù? eh il cararmato doveva essere sì sì, mi sa di sì sì, lì fermo merda, nemico dove? sono qua sì, ti sono dietro occhio all'aero prima che abbiamo fermato sta arrivando a cazzo sono qua dietro, dietro le, questa casa qua merda, merda, merda dai, muovi, che cazzo fai corri, corri, corri vai, sono qua dietro sono dietro di noi, attento il panzer è no, è dall'altra parte della città ah ok che cacchio sono eh, sono un po' dietro se guardi la mappa, li vedi no, con un amico ah, io mi ho ferito, da dove? aspetta, mi sono esposto dopo no, no, che cazzo mi hanno ammazzato ma chi? ma a te ti hanno ammazzato? no, io sono qua e chi è che mi ha sparato, scusa? non lo so cazzo, se sei vivo tu no, mi hanno ucciso oh merda allora ma cosa fai? sì, dobbiamo andarci però da lontano e tirare col cecchino mi sa mi sa che è l'unica vai, a ti sì gli inizi sono lì sono di qua, giusto? sì che non gira un cacchio sto coso tiriamo giù tutto ma sì di prepotenza ci andiamo chiaro, non gira cazzo vai per i campi perché se no se tu sta bombardando l'aereo vai, è passato ok li vedi? eccoli, sì vai vai, vai, massacra eccoli là, giù in fondo là, giù in fondo eccoli là, vai, vai ma vangolo grande adesso andate a fare uh, anche l'aereo ci si è messo vai, va, va basta andiamo avanti non lo so non li ho visti perché sono dietro al c'è questo cavolo di albero qua verde vado dritto di qua? si, si cazzo ci sparano merda oh cacchio mi ha fatto esplodere no, no, no mi ha fatto esplodere scendi, scendi, scendi merda mi ha preso cazzo ma basta così poco per far esplodere che pensavo fosse tipo un caro armato è bruttissima sembra un gocarda guarda come siamo seduti dentro no abbiamo le ginocchia in gola praticamente se questa basta basta che ci sputano addosso che esplode praticamente però va a 50 km orari solo sterrato quindi canna di frutto bellissimo è una figata e comunque lì non erano rimasti tanti nemici perché ne abbiamo fatti fuori adesso non so se poi responano non so sinceramente dove cioè c'è qualche indicazione per la conquista della zona sì sopra c'è tipo il nome della città ah quella barra però questa è già completamente blu eh sì perché questa è nostra ok quindi la prossima per cui dobbiamo riempirla completamente esatto ok go to west qui c'è un'antiaerea così a caso un'altra antiaerea qui è dove siamo spawnati prima abbiamo preso il coso sì go to west eh sì infatti è tutto in rosso proviamo a spawnare occhio cazzo il caro armato il caro armato è spawnato davanti praticamente via 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 scappa 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 che mi sta anche laggando un casino ah il zico zago zico zago ci sta teando sparano sparano tantissimo sparano qui di fianco qui di fianco qui di fianco oh cazzo io sono sceso sono sceso veloce veloce sali sali aspetta 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 no che merda via via mi ha investito via fuci 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 che sono andavanti erano ah 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 ahiaiaiaia ok con questa scena direi che concludiamo con questo gameplay sulla macchinettina bellissima è una figata sta jipina veramente bella abbiamo era bella era bella ok mi sono anche ferito sparando col panzer no ne più va bene con la nostra gp in fiamma e quindi vi salutiamo da armatree iron front e niente eventualmente chi vuole ahiaiaiaiaiaiaiaia mi ero appena curato chi voleva raggiungerci naturalmente vi aspettiamo qua sul server io the creeper tra l'altro qualcuno c'era già perché mi sa che quello che pilotava l'aereo era qualcuno che mi aveva scritto su steam infatti ti raggiungo quindi penso fosse lui comunque grazie perché ci hai dato una mano va bene un po' di kill le abbiamo fatte ci siamo vendicati quindi niente ci salutiamo ti porto via alla prossima però posso sparare mentre porto via ah puoi anche sparare va bene alla prossima